Allora facciamo un'analisi tecnica, scheda totale manco fossimo dei sommelier Qua c'è Camarota che vabbè, mo' è chiuso Mh Però io questo me lo ricordo meglio di Camarota Scende giù come il succo di frutta, buono Un bel uomo questo spritz Sa di bonziscio Sa un po' di treno Bazziscio fa mo' perché la sbronza arriva puntuale se lo bevi Fra, no, non poteva descrivere meglio una cosa del genere, cioè Vudo, guarda io vengo sempre qua a mangiare A mangiare lo spritz A mangiare lo spritz Questa è la merenda Quindi io ti direi un otto di sentimento Perché da quando l'ho scoperto che ovviamente c'è meno affluenza rispetto a Camarota Diciamo, mi è piaciuto anche di più Non mi sapevo di niente Sette e mezzo Insomma, è stra cattivo Pieno